Parco del Pionta, Campo di Marte, Saione e adesso si aggiunge anche Palazzo d'Oro. È quello che potrebbe essere definito il sentiero del buco. Tante le siringhe gettate a terra, segno evidente del passaggio di tossicodipendenti. A riaccendere i riflettori sul colle del Pionta, anche se in realtà non si erano mai spenti, l'ultima tragedia che si è consumata lo scorso mercoledì. Un 29enne è stato ritrovato senza vita per una sospetta overdose vicino al pozzo nei pressi dell'ex Casina delle Suore. È parecchio rischiosa la zona qui, anche per le donne, per gli uomini, ma principalmente per le donne, per la sera. Se uno magari esce alla lezione come ci stanno alle 7 e mezzo, effettivamente insomma, sono da solo un po' di paura, però alla fine siamo sempre in gruppo, quindi non ci dovrebbe creare troppi problemi. Cercare di andare in compagnia, si evita di uscire di casa, di venire qua in orari un po' brutti, scomodi, tipo il pomeriggio tardi, la sera. Stessa preoccupazione e di insicurezza percepita anche se ci spostiamo in altre due zone calde di Arezzo, il quartiere di Saione e Campo di Marte. All'interno della galleria dell'Extanda, oltre a numerose siringhe gettate all'interno delle saracinesche, abbiamo trovato anche vistose macchie di sangue sui muri. La sera non so se c'è più, si sta sempre a casa. Una volta si usciva a pigliare un po' di freschino, a fare una passeggiata con la signora, ma ora bambini piccoli non è il caso. Sarebbe veramente il centro della città, noi ne abbiamo due di centri della città bellissimi, uno è il Pionta e uno è questo, l'accidente al meglio. Si vive bene perché siamo in pieno centro, poi se uno tira dritto per la sua strada, io credo che bisogna avere un po' delle precauzioni magari, scendo nelle ore magari migliori, comunque io esco anche dopo scena e con la macchina, quindi appena scendo di macchina entro subito nel portone. Cioè bisogna vivere la vita di sempre, altrimenti non si campa più. Ragazzini che si appartano al sesto piano per fare uso di stupefacenti, invece il contenuto del cartello è che è apparso in questi giorni a Palazzo d'Oro. Io sabato ho visto due gruppi, e ho detto ragazzi che fate? E loro mi dicevano, ascolta, noi non ti facciamo niente. Io ho detto, ascolta, lo so, non mi fate niente, però scendete da qui. Grazie. Grazie.